Le associazioni di categoria hanno espresso preoccupazione e contrarietà rispetto al piano per la mobilità illustrato dall'assessore Pasquali nella riunione del distretto urbano del commercio di Cremona. La riduzione da due ore ad un'ora sola di gratuità in pausa pranzo per i parcheggi in centro penalizzerà tutte le attività che sono già in grave crisi. Ci hanno fatto credere che non sono state ritoccate le tariffe, ma non è vero perché hanno tolto le famose due ore di pausa in centro storico e i 30 minuti in corso Garibaldi. In conseguenza facendo così è comunque aumentato per il cliente finale il parcheggio. Quello che noi abbiamo chiesto ovviamente è di ripensarci su questa cosa perché il centro storico è in forte difficoltà e abbiamo comunque i dati di Google che c'è un accesso nel centro storico di un meno 10% su retail e che quindi poi con l'aumento delle bollette e con tutto quello che sta succedendo non era il momento di ritoccare le tariffe. La proposta di due navette che collegheranno i parcheggi un po' più esterni con il centro non dispiace ma solo a patto che sia garantita una certa frequenza e comunque non è risolutiva per chi necessita di fare commissioni veloci nei giorni lavorativi. Cioè poi quello che noi lamentiamo è la sosta breve, cioè noi abbiamo una clientela che dal lunedì al venerdì finisci a lavorare 5,5-6, vieni in centro storico, fa l'acquisto e poi va. Non vai al forboario a mettere giù la macchina, prendere la navetta e vieni in centro. Cioè fai una cosa veloce, se trovi il parcheggio bene, se non trovi il parcheggio vai in qualche centro commerciale o altre strutture.